ciao a tutti e bentornati su about biology nello scorso video abbiamo parlato del modello ondulatorio dell'atomo e dei numeri quantici per arrivare poi a introdurre il concetto di orbitale se te lo sei perso ti consiglio di recuperarlo trovi il video qua in alto a destra nelle schede o il link qua sotto in descrizione oggi andremo a vedere che forma hanno gli orbitali qual è la loro energia e come si dispongono gli elettroni all'interno di questi in senso stretto gli orbitali atomici non hanno una forma ben definita dato che la funzione d'onda che li caratterizza si estende dal nucleo potenzialmente all'infinito gli orbitali atomici si dispongono intorno all'atomo in modo tale da posizionare gli elettroni in corrispondenza di specifiche distanze dal nucleo ovvero i livelli e i sottolivelli avevamo parlato della probabilità di trovare l'elettrone nei diversi punti dello spazio intorno al nucleo e da questo punto di vista possiamo immaginare l'elettrone come una nube elettronica di carica negativa la cui densità varia da un punto all'altro fate molta attenzione perché questo è un concetto molto importante il concetto di densità elettronica è interessante perché ci permette di associare a ogni orbitale una forma una dimensione e un orientamento nello spazio e questo in relazione ai valori di n l ed m che sono i numeri quantici e che come avevamo visto nello scorso video vanno a caratterizzare gli orbitali per quanto riguarda l'orbitale 1s si osserva che l'allontanamento ad una data distanza dal nucleo in una qualsiasi direzione comporta la stessa probabilità di trovare l'elettrone e questo ci porta a pensare che la forma dell'orbitale 1s sia sferica la densità elettronica diminuirà quindi all'aumentare della distanza dal nucleo tutti gli orbitali s hanno una forma sferica ma differiscono nelle dimensioni che vanno ad aumentare all'aumentare del numero quantico principale se ricordi il video sui numeri quantici dovrebbe quindi tornarti il fatto che gli orbitali p si hanno a partire dal numero quantico principale n uguale 2 questo perché se n è uguale a 1 il numero quantico angolare l può assumere unicamente il valore di 0 quando l sarà uguale a 1 il numero quantico magnetico potrà assumere i valori di meno 1 0 e 1 partendo quindi da n uguale a 2 e l uguale a 1 abbiamo quindi tre orbitali 2p che vengono definiti 2p x 2py e 2p z e in questo caso le lettere che sono riportate a pedice vanno a indicare la direzione dell'asse lungo il quale ogni orbitale è orientato questi hanno quindi le stesse dimensioni la stessa forma e la stessa energia e differiscono unicamente per come sono orientati nello spazio per lo stesso motivo quando l è uguale a 2 sono possibili 5 valori di m che ricordiamo è il numero quantico magnetico e che vanno a corrispondere a 5 orbitali d la cui forma è molto più complessa rispetto agli orbitali p e a loro volta anche gli orbitali f saranno ancora più complessi una volta vista la forma e le dimensioni degli orbitali atomici è necessario andare a studiare le loro energie relative per comprendere come i livelli energetici vadano ad influenzare la reale distribuzione degli elettroni negli atomi solitamente per rappresentare l'energia degli orbitali viene presentata questa scala o diagramma delle energie per il momento lasciamo un attimo da parte questo diagramma ci ritorniamo tra pochissimo prima è importante capire che per esempio l'orbitale 1s dell'atomo di idrogeno corrisponde alla situazione più stabile e l'elettrone sarà legato più fortemente al nucleo in un atomo di idrogeno quindi un elettrone che occupa gli orbitali 2s o 2p che sono chiaramente superiori si trova in uno stato eccitato e la distribuzione degli elettroni nei vari livelli e sottolivelli energetici di un atomo viene rappresentata con una notazione indicata come configurazione elettronica tuttavia per scrivere correttamente la configurazione elettronica è bene conoscere il modo e l'ordine con cui sono riempiti gli orbitali e l'ordine di riempimento è basato su tre regole ovvero il principio di Hofbau il principio di esclusione di Pauli e il principio della massima molteplicità o regola di Hund il principio di Hofbau afferma che come i protoni si addizionano uno a uno al nucleo nella costruzione degli elementi così gli elettroni si addizionano agli orbitali atomici gli elettroni quindi si dispongono in un atomo occupando prima gli orbitali liberi con un'energia minore e noi sappiamo che l'energia di un orbitale dipende in prima istanza dal suo numero quantico principale che è n e in secondo luogo dal numero quantico secondario l questo era il motivo per cui tenevo un attimo da parte il diagramma delle energie che affrontiamo tra pochissimo prima ci soffermiamo anche sul principio di esclusione di Pauli che afferma che in un atomo non possono esistere due elettroni che abbiano gli stessi quattro numeri quantici ogni orbitale può quindi ospitare al massimo due elettroni che devono avere un diverso valore di ms in altre parole questi due elettroni devono avere lo spino opposto infine il principio della massima molteplicità o regola di Hund afferma che la disposizione più stabile degli elettroni in un sottolivello è quella con il maggior numero di spin paralleli i quattro numeri quantici ci permettono quindi di identificare univocamente un elettrone in un qualsiasi orbitale di qualsiasi atomo e quindi la configurazione elettronica di un elemento si va a costruire immaginando di disporre uno a uno gli elettroni negli orbitali partendo da quello con minore energia e seguendo il diagramma dell'energia degli orbitali che finalmente andiamo a ripescare per prima cosa andiamo a vedere come si costruisce questo diagramma delle energie e di base è molto semplice dobbiamo scrivere in ordine crescente i livelli e sottolivelli per primo iniziamo da quelli s quindi scriviamo 1s 2s 3s 4s 5s e 6s e 7s a questo punto facciamo quelli p per poi continuare con di e infine f quello che dobbiamo fare è semplicemente applicare la cosiddetta regola della diagonale che ci permetterà di capire qual è l'ordine da seguire nel riempimento degli orbitali immaginiamo adesso di dover determinare la configurazione elettronica dello zolfo e per prima cosa dobbiamo andare a capire qual è il numero di elettroni che dobbiamo sistemare nei vari orbitali atomici per scrivere poi la configurazione elettronica possiamo andare dalla tavola periodica a conoscere il numero atomico di questo atomo che sappiamo essere 16 lo zolfo ha quindi 16 protoni e 16 elettroni il secondo passaggio è quello di rispettare tutte e tre le regole che abbiamo elencato in precedenza dal principio di offbau al principio di esclusione di pauli alla regola di hund e riempire tutti gli orbitali energetici secondo il diagramma delle energie per ricordarlo in modo semplice vi consiglio sempre di realizzare questo schema che è facilissimo da ricordare e vi permette di non sbagliarvi con l'ordine degli orbitali partendo dall'1s che ha un solo quadratino e dallo spazio per due elettroni che indichiamo con delle frecce antiparallele per il principio di esclusione di pauli dato che questi devono avere uno spin antiparallelo siamo partiti quindi dall'1s andiamo a scrivere quindi 1s2 e mi raccomando questo 2 non va letto alla seconda perché è un numero che indica il numero di elettroni che sono presenti in questo orbitale e infatti sappiamo che l'1 rappresenta il livello energetico s rappresenta il sottolivello e 2 il numero di elettroni che sono presenti in quel sottolivello continuiamo quindi con il 2s perché dobbiamo riempire quello e anche in questo caso sarà un unico quadratino avremo poi il 2p che come abbiamo visto in precedenza sarà costituito da tre orbitali quindi da tre quadratini e attenzione a come vanno riempiti bisogna iniziare intanto mettendo un elettrone per ogni quadrato seguendo le regole che abbiamo visto prima e in particolare la regola di und e continuiamo perché dobbiamo riempirli fino a raggiungere il numero di 16 perché abbiamo 16 elettroni da dover sistemare scriviamo quindi nella configurazione 2s2 e 2p6 in quanto qui ci sono 6 elettroni e iniziamo a contare 2 più 2 fa 4 più 6 fa 10 mancano ancora 6 elettroni da sistemare proseguiamo quindi con l'orbitale 3s che come avrete capito sarà solo un quadratino occupato da due elettroni e qui quindi dovremmo scrivere 3s2 e infine abbiamo il 3p perché dobbiamo ripartire da quest'altra diagonale e ancora una volta dobbiamo andarli a riempire sempre occupando per primo un quadratino vuoto con chiaramente gli elettroni che ci rimangono a disposizione perché dobbiamo arrivare a 16 e siamo a 4 più 6 10 più 2 12 quindi 1 è questo 13 14 15 e 16 quindi abbiamo sistemato tutti gli elettroni e qui dovremmo scrivere 3p4 perché è occupato da 4 elettroni quindi questa è la configurazione elettronica dello zolfo seguendo questo processo e il semplice diagramma delle energie sarai capaci di scrivere la configurazione elettronica di ogni elemento questi principi ci forniscono quindi le indicazioni per la costruzione degli elementi e la tavola periodica va a classificare appunto gli elementi secondo il loro numero atomico e quindi anche secondo la loro configurazione elettronica e se guardi bene nella tavola periodica dovrai trovare la configurazione elettronica di tutti gli elementi compreso questa dello zolfo in ogni caso parleremo della tavola periodica all'interno del prossimo video se non vuoi perdertelo iscriviti al canale e lascia un like al video per supportare il nostro lavoro prima di concludere volevo però rispondere a un perché che anche io mi sono domandato quando studiavo questi argomenti quando andiamo a utilizzare la regola della diagonale per il riempimento degli orbitali notiamo che a partire dal terzo livello si verificano degli eslittamenti che vanno ad anticipare orbitali appartenenti a livelli superiori rispetto a quelli dello stesso livello in cui si sta verificando il riempimento mi spiego meglio a partire dal terzo livello quindi dal 3 dopo il riempimento dell'orbitale 3p per esempio ci si aspetterebbe di proseguire con il 3d invece con la diagonale sappiamo che dobbiamo riempire per prima il 4s e soltanto in seguito andiamo sul 3d ma perché avviene questo non c'è niente di errato semplicemente stiamo rispettando l'andamento crescente di energia infatti il 4s è energeticamente inferiore rispetto al 3d nonostante questo appartenga a un livello superiore e questo dipende dal fatto che il 3d con la sua particolare forma e i suoi lobby si protende a maggiore distanza dal nucleo rispetto al 4s che sappiamo è di forma sferica per questo motivo gli elettroni del 3d hanno un po più di energia potenziale e si dispongono quindi in un secondo momento rispetto a quelli del 4s vedete è sempre fondamentale nella scienza ma anche nella vita farsi delle domande perché prendere qualsiasi cosa come un dogma è sempre un errore quindi domandarsi sempre il perché ci porta a comprendere e interiorizzare meglio i concetti che studiamo vi ringrazio quindi ancora una volta per aver seguito questo excursus e noi ci sentiamo o qua sotto nei commenti o in ogni caso in un prossimo video un caro saluto da about biology ciao 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 Grazie a tutti.